No, facci il cucchiaio. No, che va facendo? Ehi, ehi. Ma sono anni che non lo faccio. Tu vuoi pratica? Ehi, lo fa! Va bene, lo faccio. Attenzione, non c'è trucco e non c'è inganno. Et voilà! E ora come lo giro al caffè? Ecco, mi è piaciuto tanto. Ecco, mi è piaciuto tanto.